Buonasera, buonasera signore. Se siete così gentili da prendere posto. Memoria venerata e memoria violata, l'arte del passato nelle civiltà dell'Oriente Antico. E ci parla di questo il professor Paolo Mattie. Comincio diciamo praticamente offendendolo perché dico due parole su chi è Paolo Mattie, quindi scusatemi già. Paolo Mattie è professore merito di archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente della Sapienza Università di Roma, nonché direttore dal 63 della spedizione italiana Debla in Siria, della quale è considerato lo scopritore, venendo per questa ragione insegnita dell'onorificenza del merito siriano. Si tratta di uno dei protagonisti indiscussi della ricerca archeologica del vicino Oriente e di uno dei massimi studiosi delle più remote culture del Mediterraneo, che ha condotto le proprie campagne di scavo in luoghi pesantemente martoriati da drammatici conflitti. L'antica città di Ebla, uno dei gioielli archeologici della Siria, risale a 5.000 anni fa. Venne distrutta per la prima volta intorno al 2200 avanti Cristo e, tornata a fiorire, venne distrutta di nuovo alcuni secoli dopo. Oggi purtroppo è in corso l'ultima devastazione a causa dei suoi movimenti interni ostili al governo di Assad. È certamente un punto di merito del suo direttore se la missione archeologica, a malgrado la situazione drammatica della Siria, abbia a fine a questo momento potuto proseguire le sue attività scientifiche. Ha prevalso, e speriamo continui a prevalere, il senso di responsabilità debelligeranti e la consapevolezza di dover salvaguardare la più importante scoperta archeologica su scala mondiale della seconda metà del Novecento. Il rischio da scongiurare, e di questo credo che il professore si preoccupi molto, è che la barbarie che sempre accompagna i conflitti bellici non travolga irrimediabilmente le vestigia di quelle civiltà lontane e con esse il lavoro straordinario che da cinquant'anni hanno indefessamente condotto il nostro professore e i suoi valorosi archeologi. Quindi grazie professor Mattia. Grazie presidente. Illustre presidente, colleghi, signore e signori, Le opere del patrimonio culturale che nei tre millenni di storia delle grandi civiltà preclassiche dell'Oriente Mediterraneo vennero prodotte spesso per magnifica committenza reale e sempre nell'ambito di specifici sistemi di comunicazione visiva come erano percepite nella loro presenza durevole nel corso del tempo che valore assumevano come testimonianze del passato di che significato si caricavano per i posteri nel loro presente la memoria del passato vivente nelle opere del patrimonio culturale era trascurata o venerata e quali erano le motivazioni alla base di una possibile indifferenza o di un probabile coinvolgimento se la memoria del passato attraverso testimonianze monumentali ed artistiche spesso imponenti ed incisive nel vissuto profano e sacro aveva un impatto rilevante nella vita di quella remota umanità apparentemente così distante dal nostro mondo qual era l'atteggiamento delle autorità politiche e religiose per la loro conservazione? se forte e positivo era il significato delle opere del patrimonio culturale nell'ambito delle singole culture e la loro memoria era venerata e protetta i valori in gioco erano di tipo solo sacrale ovvero emergevano elementi di apprezzamento che potrebbero essere ricompresi nell'ambito estetico e ancora quando si verificavano situazioni di confronto di contrasto di scontro come si configurava l'atteggiamento dei vincitori nei confronti delle opere che erano considerate simboliche dello spesso illustre passato dei vinti la violazione della memoria dei vinti si realizzava sempre attraverso la distruzione delle opere in cui quella memoria si perpetuava ovvero si verificavano diverse modalità classificabili come forme di appropriazione attraverso quali metodi di annientamento si procedeva perché la violazione della memoria fosse suprema e l'esito delle distruzioni fosse irrevocabile a tutte queste domande non si daranno ovviamente nel breve tempo a disposizione risposte sistematiche ed esaurienti ma si tenterà di presentare evidenze risultanti dalle fonti scritte dalle fonti antiche scritte e materiali che mostreranno attraverso casi esemplari per un verso come anche nei remoti tempi delle civiltà preclassiche dell'Oriente Mediterraneo l'attenzione degli antichi fosse rivolta come ai nostri giorni ai due estremi della conservazione scrupolosa delle opere e della loro totale distruzione e per l'altro come in quegli stessi tempi i processi mentali che erano alla base di questi atteggiamenti apparentemente molto simili ai nostri fossero in realtà ispirati da motivazioni profondamente diverse un quesito preliminare si pone sul genere di valutazione e di apprezzamento che le culture del mondo orientale antico avevano delle opere architettoniche e artistiche prodotte nel passato della loro storia se ovviamente le categorie del bello e dell'artistico come noi intendiamo oggi erano estranee alla mentalità orientale antica si deve dire peraltro che l'apprezzamento di quelle opere si manifestava secondo due concetti basilari in cui si ravvisa un fondamento estetico particolare questi due concetti che in modi diversi si ritrovano in tutte le culture maggiori dell'oriente antico per definire le qualità positive di un manufatto sia nell'ambito architettonico che artistico sono quelli di letteralmente luminosità, brillantezza, splendore e letteralmente di convenienza, adeguatezza, perfezione e palesemente riguardano da un lato l'apparenza, l'aspetto, la forma dell'opera la cui riuscita è definita nei termini specifici del fulgore e dall'altro l'efficacia, l'efficienza la funzionalità dell'opera che si stima positivamente se in essa ogni parte si considera pertinente e non superflua se tutto è al suo posto per dire così vale la pena di ricordare che nel mondo greco-arcaico tra VIII e VI secolo a.C. in alcuni passi dell'Iliade e dell'Odissea come negli Inni Omerici concetti simili emergono nell'apprezzamento delle opere artistiche mentre, credo, solo con le osservazioni di Pitagora attorno al 530 a.C. si affermano concetti nuovi ed originali estranei alle percezioni del mondo orientale antico che diverranno invece il fondamento delle valutazioni prevalenti del mondo classico queste osservazioni sono incentrate sull'idea che la bellezza di un'opera dipende dalla perfezione della sua struttura intesa però come proporzione delle sue parti e come ordine interno il suo cosmos nell'atmosfera sacrale che pervedeva ogni aspetto della vita nell'Oriente antico con una naturalezza una confidenza e una sicurezza che appaiono singolari ad un uomo moderno le più impegnative articolate e complesse realizzazioni umane vedete delle città gli stessi centri urbani non erano in alcun modo percepite come una rottura come è per noi certo tra mondo naturale e mondo culturale bensì piuttosto al contrario erano sentite al tempo stesso come perfetta creazione divina degli inizi dei tempi come luogo benedetto ridondante di ogni abbondanza l'avranno fatti gli dei come felice sede dell'accumularsi di splendide opere in un antico celebre inno al dio supremo sumerico Enlile della città di Nippur che era uno dei dieci testi fondamentali del canone letterario del mondo di Sumer forse alla fine del terzo millennio avanti Cristo si ricorda che quando il grande dio vedete le immagini di Nippur scelse il luogo per il suo santuario che si chiamava Kiur la montagna il suo luogo puro egli anche costruì Nippur la città la sua propria città dicono i testi e i Kiur fondò nel quartiere denominato Duranki che significa il fondamento del cielo e della terra nel mezzo delle quattro parti del mondo il testo suona così il suo suolo è la vita della terra e la vita di tutti i paesi stranieri la sua muratura in mattoni è oro rosso il suo fondamento è lapislazzuli in alto esso risplendeva nel paese di Sumer come fossero le corna di un toro selvaggio esso fa che tutti i paesi stranieri tremino di terrore nelle sue grandi feste il popolo passa il suo tempo nell'abbondanza nell'Egitto delle tarramessine nel tredicesimo secolo avanti Cristo quindi quasi più di un millennio dopo in modo non dissimile nella sostanza anche se con diversi capcenti è il primato mitico di Tebe che viene esaltato nella composizione i mille canti in onore di Ammone il Dio e di Tebe la città perché la sua fondazione risale ai tempi delle origini perché in essa è ogni abbondanza perché essa è il modello di ogni città il testo suona così testimonia Tebe ad ogni città l'acqua e la terra erano in essa nella prima volta venne la sabbia a circondare i campi per creare il loro suolo nella terra alta allora esiste la terra venne poi in esistenza l'umanità subito dopo le città per fondare ogni città per mezzo del suo vero nome perché città è chiamato il loro nome sotto la sorveglianza di Tebe l'occhio del Dio Ra che è il Dio solare tutte le città sono sotto la sua ombra cioè di Tebe per magnificare se stesse per mezzo di Tebe essa testimonia chiusa la citazione in questa composizione sono citati i quartieri di Tebe come forme stesse delle divinità che in esse risiedono come luoghi della prosperità dell'allegrezza della potenza della giustizia e come luogo ineguagliabile più tardi negli ultimissimi anni dell'VIII secolo a.C. per magnificare la sua rifondazione dell'antichissima Ninive un grande sovrano da Siria Sennacherib presentando il suo complesso programma di ristrutturazione urbanistica della città ecco Ninive e di risistemazione idrica del suo territorio così si esprime testualmente in quel tempo Ninive il centro di culto la città amata dalla Dea Ishtar dove sono tutti i luoghi di incontro degli dèi e delle dèe il basamento eterno la fondazione imperitura la cui pianta è stata disegnata nel lontano passato dagli dèi naturalmente e la cui struttura è stata fatta bella insieme con il firmamento del cielo l'artistica residenza la sede della legge divina dove sono stati introdotti tutti i tipi di opere artistiche ogni segreto e ogni progetto positivo dove dal remoto passato i re che mi hanno preceduto i miei padri parla Sennacherib hanno esercitato la signoria sulla Siria prima di me e hanno governato i sudditi del Dio ma nessuno di loro aveva rivolto i suoi pensieri né disposto la sua mente ad ampliare l'area della città a costruire una cinta fortificata ad aprire strade a scavare canali a piantare alberi né aveva rivolto la sua attenzione al palazzo che era là la sede la residenza della regalità la cui area era troppo piccola e la cui costruzione non era artistica né a queste finalità aveva dedicato le sue energie e i pensieri del suo cuore questa è la premessa della grande rifondazione di Ninive che fece Sennacherib costruendo uno spettacolare palazzo che è celebre come il palazzo senza rivali le cancellerie dei sovrani da Siria che si esprimivano in questi termini al tempo di Sennacherib alla fine dell'ottavo secolo rivelando pur in termini generali che alla classe dominante a Siria l'aristocrazia di governo era ben chiaro che l'antichissima Ninive ospitava da secoli nei suoi templi certo e forse anche nei suoi palazzi tesori artistici senza pari quando dovevano rievocare le imprese architettoniche ed urbanistiche dei loro signori fin dalla fine del secondo millennio usavano due formule significative quelle opere erano compiute letteralmente per il piacere del sovrano e letteralmente per l'ammirazione delle genti il piacere del sovrano e l'ammirazione delle genti quindi in maniera esplicita come già si è accennato si esprimeva la necessità che le opere da un lato corrispondessero alle esigenze della regalità universale dell'impero per una piena funzionalità e dall'altro sollecitassero sensazioni di attonita meraviglia per il loro splendore il fulgore delle opere negli ammirati sudditi se i tempi del mondo mesopotamico fin dai tempi antichissimi degli inizi della civiltà nel periodo protodinastico dei paesi di Sumere e di Accad almeno dai primi secoli del terzo millennio erano considerati opere degli dèi nel tempo mitico è ovvio che ad essi si rivolgesse ogni attenzione da parte dei sovrani della Babilonia e della Siria a mantenere in ordine queste fabbriche sacre e a restituir loro l'originario splendore dopo periodi di incuria e di abbandono riconoscete la ricostruzione della torre di Babbele al museo di Berlino le iscrizioni reali soprattutto da Siria fin dall'inizio del secondo millennio avanti Cristo sono una testimonianza impressionante di questa memoria accurata e della puntigliosa registrazione dei danni subiti e delle ricostruzioni compiute nel corso dei secoli alla fabbrica sacra di cui si celebra l'ultimo restauro per un verso questi documenti epigrafici sul piano cronologico meravigliano per la loro singolare precisione in quanto viene spesso indicato l'ammentare esatto degli anni trascorsi tra una ricostruzione e la successiva e per un altro sul piano ideologico destano perplessità perché richiamando l'attenzione sulla deperibilità e sull'effettivo decadimento delle strutture sacre spesso illustrate iperbolicamente peraltro come da argento e di lapislazzoli nei testi indici sembrano indurre scetticismo sul loro stesso carattere divino erano antichissimi ma si sono deteriorati perché di fatto erano di mattoni crudi non erano di lapislazoli d'oro e d'argento come dicono gli inni iperbolicamente in effetti le iscrizioni più antiche di questo tipo che sono quelle di Shamshadad primo da Siria agli inizi del XVIII secolo a.C. è un grande contemporaneo di Hammurabi di Babilonia si limitano a ricordare quale sovrano precedente avesse ricostruito il tempio su cui il re interviene nelle sue iscrizioni a seguito del suo grave stato di deperimento così il sovrano ricorda che il famoso tempio denominato Emashmash della Dea Ishtar a Ninive dove egli intervenne per ricostruire il settore più sacro era stato ricostruito da Naramsin di Accade nel XXIII secolo cioè 4-5 secoli prima e che da allora erano passate sette generazioni senza che nessuno dei suoi predecessori si fosse più preso cura dell'importante edificio religioso era in assoluto il più importante edificio religioso di Ninive più tardi questi dati che diventano usuali soprattutto per le fabbriche sacre sono più accurati e anche quando non sono definiti numericamente gli anni trascorsi sono tali da delineare una sorta di cronaca delle vicissitudini occorse a un determinato santuario e questo è il caso del notevole tempio della Dea Ishtarassira come si chiamava nella città di Assur di cui Adad-Nirari I un re medio-ossirio della seconda metà del secondo millennio ricorda che fu ricostruita una prima volta da un re 5-6 secoli prima e una seconda da Sargon I un paio di secoli dopo e quindi ancora una terza poco prima del tempo di Adad-Nirari I nella seconda metà del secondo millennio in età appunto medio-ossiria è però con i grandi sovrani medio-ossiri che queste cronache si precisano con l'indicazione degli anni intercorsi tra un intervento di restauro e l'altro tra i più grandi Salman Asar I nel XIII secolo a.C. introducendo la celebrazione dei suoi lavori al grande tempio il maggiore del dio Assur nella città di Assur dopo aver ricordato che il santuario risaliva ad un antichissimo ed ignoto re di nome Uspia afferma che era stato ricostruito dapprima da un certo Erishum un re quindi dopo 159 anni precisamente dal grande Shamshadad I che abbiamo citato poco fa e infine dopo altri 580 anni precisamente a seguito di un grave incendio in cui fabbriche e redi erano stati devastati dalle fiamme suppì radicali interventi di cui egli stesso si vanta quindi si risale per circa 800 anni anche di più in forma più abbreviata ma ugualmente precisa alla fine del XII secolo a.C. il maggiore sovrano Medios Siro Teglatpileser I illustrando le sue opere al tempio degli dei Anu e Adad ad Assur in un tempio importante ma non il principale ricorda che esso era stato ricostruito da Shamshadad III e dopo ben 641 anni essendosi ormai deteriorato assai un suo predecessore Assurdan I lo abbattè per ricostruirlo ma non vi riuscì sicché nessuna opera era stata più compiuta all'edificio per altri 60 anni fino appunto al regno di Tigatpileser I che è l'autore di queste iscrizioni le motivazioni che devono avere indotto ripetutamente i re d'Assir a ricordare le rovine e le ricostruzioni dei maggiori santuari particolarmente della loro città santa Assur dove erano i più venerati templi della nazione devono essere state diverse alcune soltanto nella logica abituale ai sovrani mesopotamici che tendevano ad esaltare il loro comportamento in paragone a quello dei loro predecessori e altre invece in una prospettiva più ideologica che politica quali erano queste motivazioni? in primo luogo la continuità forte e sostanzialmente ininterrotta almeno certo nella memoria del culto praticato per una determinata divinità e di conseguenza la continuità ideologicamente fondamentale tra l'azione primordiale del Dio come autore della fondazione del santuario e l'azione del re come restauratore della fabbrica sacra in secondo luogo il ruolo costante ed assiduo del re ed in genere dell'istituzione della legalità cioè di tutti i re nell'assicurare al Dio la sua dimora anche radicalmente rinnovata quando gravemente deperita e nel curare la presenza irrinunciabile del Dio all'interno della comunità umana che esiste per servirlo l'umanità per il mondo mesopotamico è stata creata per servire gli dei in terzo luogo la documentata lotta incessante del re anche se talora con ritardi e trascuratezze per ricondurre il santuario nello stato originario voluto dal Dio non si deve alterare ciò che il Dio ha fatto che è un modo di celebrare la vittoria del sovrano sul decadimento delle opere architettoniche molto probabilmente inteso il decadimento come forma di inselvatichimento della cultura se un tempio decade significa che la natura selvaggia avanza sulla cultura e la regalità sta a frenare questo processo il tempio opera primordiale degli dei è inteso come corpo animato di cui i canti liturgici sono la voce e l'armonica struttura architettonica e il corpo come detto in maniera esplicita nei più antichi inni sumerici partecipa delle qualità superiori ed eterne della divinità che ad esso ha conferito esistenza all'inizio dei tempi di un tempio così concepito non solo come residenza del Dio ma come sua emanazione d'immagine è ovvio che il sovrano debba prioritariamente avere cura come sua funzione centrale e principale perché venga assicurato l'ordine del mondo un elemento stabile del complesso di epitoti che compongono la titolatura reale soprattutto nell'ambiente babilonese ma già al tempo di Hammurabi il grande re di Babilonia nella prima metà del XVIII secolo avanti Cristo ma soprattutto negli anni di Nabucodonosor II il celeberrimo distruttore di Gerusalemme nell'età neobabilonese nel VI secolo avanti Cristo e con parecchie varianti proprio quello semplicemente di letteralmente curatore dei grandi santuari il santuario è il tramite tra gli dèi e gli uomini dalla parte del mondo divino mentre il sovrano è il tramite tra gli uomini e gli dèi dalla parte del mondo umano il rispetto l'ammirazione e la cura per le opere del passato memoria materiale e spesso impressionante della tradizione nel mondo dell'antico oriente non si limitano però a quelle che erano considerate come i tempi della Babilonia e della Siria opera degli dèi ma hanno riguardato soprattutto in Egitto opere famose che pur giunte fino a noi avevano già nell'antichità subito l'oltraggio del tempo famosa testimonianza è la cosiddetta stelle della sfinge ancora collocata la si vede proprio tra le zampe tra le zampe di quella che all'origine era un'immagine di Kefran la sfinge di Giza è diciamo un ritratto di Kefran per intendersi ma che circa un millennio più tardi era considerata dagli stessi egiziani una raffigurazione del dio Atum che viene definita in questo documento letteralmente la statua colossale di Heepri grande di potenza splendida di dignità su cui cade un'ombra del dio Ra il sole e da cui i cittadini di Menfi Giza era la necropoli della città di Menfi vengono con le braccia alzate adorando il suo volto carichi di grande offerte chiusa la citazione l'iscrizione regale di questa stele che voi state vedendo riferisce che a quel tempo testualmente Tutmosis è il futuro farone Tutmosis IV ancora giovinetto quindi principe ereditario simile al piccolo dio Horus delle palite di Chemni la cui bellezza eguagliava quella di Horus vendicatore di suo padre in cui si ravvisava il dio in persona traeva piacere a distrarsi sull'altopiano desertico a tirar d'arco contro un bersaglio di rame a cacciare il leone e la gazzella a correre sul suo carro coi suoi cavalli più veloci del vento con uno o un altro della sua scorta all'insaputa di tutti era un piacere di corte di questo principe giovinetto la stele riferisce di nuovo testalmente un giorno il principe si ristorò all'ombra di questo grande dio cioè all'ombra della sfinge di Giza il sonno del sogno si impossessò di lui nel momento in cui il sole era al suo culmine cioè al massimo del caldo e la maestà di quel dio gli parlò con la sua stessa bocca come un padre parla al figlio guardami figlio mio tutmosis io sono tuo padre harmaki he priatum il nome del composito del dio io ti concedo la regalità sulla terra capo di tutti i viventi a te è il mio volto a te è il mio cuore tu sei mio ma vedi lo stato in cui sono e come dolorante il mio corpo io che sono il signore dell'altopiano di Giza avanza sopra di me la sabbia del deserto cioè vedi in che stato miserabile sono io perché è stato inondato dalla sabbia col vento del deserto quella su cui io sono quella su cui io dovrei dominare e si chiude così la citazione e il dio stesso attribuendo la regalità al principe gli chiede che è divenuto faraone lo liberi dalla rovina restaurandone l'antico splendore cosa che naturalmente accadde e tutto ma si squarto e resse a memoria di questo diciamo clamoroso restauro la stele che è stata che è rimasta per altri tre millenni tra le zampe della sfinge se questo è un testo famoso che deve essere stato composto per celebrare le qualità eroiche del faraone e la legittimità della sua regalità in una delle più gloriose famiglie reali d'Egitto quella della diciottesima dinastia più volte turbata da conflitti dinastici il più illustre faraone della successiva dinastia la diciannovesima nel tredicesimo secolo avanti Cristo Ramses II delegò formalmente al suo figlio prediletto Haim Waset di cui vedete la statua sulla sinistra al British Museum al lungo principe ereditario che non ebbe tempo di succedergli per la lunghezza sterminata del regno paterno il compito di restaurare i famosi monumenti dell'area di Menfi con particolare riguardo alle spettacolari necropoli di Ghizza e di Saccara dove sono conservate iscrizioni che ricordano i suoi numerosi interventi per restaurare conservare e far rivivere aree templari famose dei maggiori faraoni dell'antico regno praticamente di di un millennio prima tra queste testimonianze una delle più interessanti perché riguarda il recupero di una statua di un principe un certo Kauab figlio di Cheope il costruttore della prima Gipramide di Ghizza la più grande si trova sulla statua stessa del principe e suona così testualmente il sacerdote Sem figlio del re cioè figlio di Ramses II Haim Waset questo principe ereditario che si rallegrò nel suo cuore per questa statua di Kauab figlio di re era il figlio di Cheope che ha ritrovato mentre era tra le rovine nel santuario amato da suo padre Cheope re del basso dell'Alto Egitto era la titolatura degli egiziani in buono stato la restituì per attribuirle un posto nel favore degli dei in compagnia degli spiriti eccelsi che presiedono al palazzo di Ka a Rosetawi significa il palazzo del faraone a tal punto egli ama egli è Haim Waset questo diciamo principe restauratore i nobili antenati che sono gli antenati regali che vissero in un tempo antico di cui ogni impresa era memorabile cioè tutti i faraoni più antichi avevano compiuto imprese memorabili e la loro memoria doveva essere curata esemplare oltre che relativamente ben documentato è l'eccezionale impegno del principe Haim Waset il figlio appunto di Rams II per l'erazione del serapeo di Menfi che vedete in basso il santuario del cimitero dei tori sacri Apis vedete la statua di Apis a destra che ne perpetuò la memoria per più di un millennio quando divenne questo Haim Waset l'eroe di popolari leggende di magia in età ellenistica in lingua demotica ma più impressionante è la sua opera per conservare la memoria di molti luoghi sacri delle necropoli dell'antico regno vicino a Menfi dalla piramide a gradini di Zoser che vedete in alto alla tomba del faraone Shepsa Scaff della quarta dinastia alle piramidi di faraoni della quinta Unas Sacurea Saccara al tempio solare di Nueserre sempre della quinta e quasi certamente anche alla celeberrima piramide di Cheope dovunque l'attivissimo principe interveniva lasciava un'iscrizione che ricordava i suoi restauri in questo modo con un formulario che è stato ritrovato in varie di queste iscrizioni testualmente sua maestà Rams II il padre ha emanato questo decreto è il grande sacerdote del dio Fta il dio di Menfi il sacerdote Sem il principe Chaim Waset che ha immortalato il nome del re e qui appariva il nome del re di cui era stato restaurato il monumento ora il suo nome non si trovava più sulla faccia della sua piramide cancellato dal tempo ma molto fortemente il sacerdote principe Chaim Waset volle restaurare i monumenti dei re dell'alto del basso Egitto a causa di ciò che essi avevano fatto dato che l'integrità dei monumenti stava cadendo in rovina e gli emise un decreto per le loro sacre offerte dotate di un lascito di terre insieme al relativo personale chiusa la citazione questo è molto interessante perché non solo si restauravano i monumenti ma si costituiva una struttura diciamo organizzativa socio-economica che permetteva la conservazione di quel documento veneratissima era dunque sia in Egitto che in Mesopotamia la memoria delle opere del re scusate dei re scomparsi e fondamentale era la conservazione della realtà fisica dei monumenti architettonici ed artistici che erano l'essenza stessa della tradizione testimone inoppugnabile della legittimità del potere dei viventi faraoni d'Egitto e dei viventi sovrani di Mesopotamia la conservazione e quindi il restauro la tutela e il mantenimento delle opere avevano nella volontà dei re lo stesso fondamento che indusse il maggiore faraone della diciottesima dinastia tutt'un sisterzo a far iscrivere nella pietra in una cappella del massimo santuario di Tebe dedicato al dio Ammone a Karnak è il celeberrimo tempio di Karnak la lunghissima lista dinastica dei signori dell'Egitto dalla prima dinastia dei tempi protostorici fino ai suoi giorni quella che vedete in altra a sinistra è il settore del tempio di Karnak appunto di Tutmosis III in alto i nomi di Tutmosis e in basso una veduta del lago sacro di questo spettacolare tempio Tutmosis III fece incidere nella pietra sono diversi papiri che li conservano ma fece incidere nella pietra la lista integrale naturalmente frammentaria di tutti i re dell'Egitto dal primo faraone della prima dinastia al suo tempo a lui stesso per le liste dinastiche di Mesopotamia d'Egitto così eccezionalmente importanti come ben sapete per la storiografia moderna per la ricostruzione della cronologia degli eventi storici sia in Mesopotamia che in Egitto dovessero essere fondamentali innumerevoli perduti materiali archivistici soprattutto templari ma sia sulle rive dell'Eufrate e del Tigri che su quelle del Nilo di straordinaria importanza furono certo i grandi santuari stessi che erano per dir così naturali musei di innumerevoli opere scultore quasi sempre di committenza regale di carattere votivo custodite gelosamente e in certi periodi oggetto di accurati studi e trascrizioni delle preziose spesso antichissime iscrizioni su di esse incise benché pressoché nulla sia conservato di questi tesori artistici di statuaria regale nel mondo mesopotamico le numerose preziosissime copie che il dotto clero dei maggiori edifici templari della Babilonia soprattutto nel XIX e XVIII secolo avanti Cristo e seguì delle iscrizioni presenti sulle opere scultore e conservate soprattutto nel grande santuario pansumerico di Nippur che abbiamo visto poco fa testimoniano in maniera inequivocabile che in quel complesso sacro del grande dio Enlil erano presenti in quegli anni statue e stele di numerosi importanti sovrani delle maggiori dinastie di Sumere e di Akkad da Sargon a Naramsin sulla sinistra la celebre stella di Naramsin del Louvre da Rimush a Manishtusu a Urnam a Sciulgi da Amarsuen ai Bisin d'altro lato le liste dei numi d'anno dei sovrani mesopotamici delle dinastie di Isin di Larsa e di Babilonia che ci sono pervenute quasi intatte attestano che nei primi quattro secoli del secondo millennio quasi esattamente dal 2000 al 1600 vennero dedicate in molti dei maggiori santuari della Mesopotamia meridionale decine e decine di statue regali spesso d'oro d'argento e di rame di cui nulla è giunto fino a noi noi abbiamo poche pochissime direi statue in pietra ma quelle in metallo naturalmente sono completamente scomparse per le distruzioni di cui ora parleremo nel mondo mesopotamico non minori che in Egitto sono le testimonianze della cura scrupolosa nei restauri soprattutto delle preziosissime immagini divine per le quali si ponevano spesso angosciosi dilemmi perché non vi fossero anche involontarie deroghe dalle norme della tradizione quanto a costume atteggiamento attributi quando si doveva restaurare un'immagine divina i sovrani mesopotamici si facevano prendere da angoscia perché potevano sbagliare nel ricostruire o restaurare integrare l'immagine di un dio quando all'inizio dell'età cassita nel XVI secolo a.C. furono recuperate le statue di culto di Marduk e di Sarpanitum i due massimi dei di Babilonia Marduk è il grande dio di Babilonia Sarpanitum è la sua sposa sottratta dal rei Tita Mursili I così si esprime il re della nuova dinastia straniera Cassita salito sul trono della città di Amurabi testualmente interrogai il dio solare Shamash attraverso la divinazione mandai gente in un paese remoto nella terra dei Hanei nella terra dei Hanei e Marduk e Sarpanitum i due grandi dei feci che riportassero a me erano stati rapiti Marduk e Sarpanitum che amano il mio regno feci tornare nel santuario dell'Esagila l'Esagila era il grande santuario di Marduk a Babilonia e nella città di Babilonia li fece rientrare a Babilonia nella sala che il dio solare Shamash che vede tutto perché sta in alto nel cielo anche gli errori dei politici dicevano gli antichi mesopotamici noi non ce l'abbiamo più un dio così mi aveva indicato attraverso la definizione la divinazione li feci tornare nella sala che ha vendicato il dio Shamash misi al lavoro artigiani fabbri orefici scultori quattro talenti di oro rosso fornì per l'abbigliamento di Marduk e di Sarpanitum con magnifico costume un costume di oro rosso rivestì Marduk e Sarpanitum l'apislazuli di montagna clorite verde calcedonio gemme di agata perle del paese di Malucca alabastro pietre gialle del tipo scilo una parola incomprensibile pietre sichillo un'altra parola che non si conosce tutto ciò che vi è sommamente pregiato nelle montagne dove sono le pietre preziose per il santuario di Marduk e di Sarpanitum fornì tiare con magnifiche corna le corna sono l'immagine degli dei nella iconografia mesopotamica tiare degni della signorilità degli dei simbolo della divinità colme di splendore di lapislazuli e d'oro posi sulle loro teste la superficie delle loro corone con calcedonio clorite lapislazuli e agata abbellì fine della citazione se questa è un'iscrizione celebrativa quasi un millennio più tardi agli inizi del settimo secolo avanti Cristo vi sono dirette testimonianze epistolare dei procedimenti usati per i restauri di statue cultuali di un importante santuario dell'antichissima città di Uruk la cosiddetta prima città della storia che vedete in alto sulla destra curati da un alto funzionario assiro che così si rivolge al suo ri a Saraddon nella prima metà del settimo secolo che vedete nella stela di Cipra a sinistra in ansia per il lento procedere dei restauri il ria aveva chiesto quale opera alle statue degli dei è ancora incompleta risponde Marissar questo funzionario cui scriveva il ria Saraddon testualmente dice la lettera la decorazione della dea Nanaia è una dea importante di Uruk è ancora incompiuta inoltre mentre il volto e le mani della dea Ura Samazza un'altra divinità sono stati rivestiti d'oro la figura e i piedi non lo sono ancora e le è abbigliata con una veste particolare la Mahushu e adornata con una tiara d'oro i due dragoni d'oro sono pronti e stanno a destra e a sinistra sul suo piedistallo io l'ho mandata dalla Siria dove evidentemente era stata riparata ad Uruk dove doveva riprendere posto nel suo santuario inoltre riguardo alle opere alle altre statue divine e cita le divinità Arcaiito Anunito e Palil il lavoro del carpentiere dell'orefice è finito ma esse non sono ancora state rivestite d'oro noi abbiamo dato loro l'argento ma devono ancora avere da me l'oro dopo che avremo completato il lavoro al tempio allora faremo la decorazione della dea Nanaya quella di cui aveva chiesto notizia il grande sovrano a Siro la Saraddon il conquistatore dell'Egitto vi ricordo ora sono disponibili 40.000 d'oro sarebbero 20 chili praticamente risponde così il funzionario a Saraddon gli assirologi sono convinti che Saraddon fosse uno psicopatico di fatto una persona di personalità molto particolare molto ansiosa diciamo ma come vedete un funzionario da Siria era accuratissimo nel dire quello che stava facendo e come usava l'oro e l'argento che gli veniva affidato era pericoloso diciamo non essere molto puntuali con un re da Siria proprio la prolungata presenza nei secoli della statuaria soprattutto regale nei templi maggiori con la disponibilità materiale di modelli illustri e venerati in età anche molte più recenti ha fatto sì che ripetutamente sia accaduto che per proclamare la legittimità di una nuova dinastia o per richiamare i valori di un glorioso tempo passato non solo appariscenti dettagli iconografici nel costume nell'insegno e nell'atteggiamento ma anche meno evidenti elementi stilistici nella struttura idealizzata dei volti nel realismo dei tratti fisionomici nell'assolutezza astratta dell'espressione siano stati ripresi secondo strategie di committenti e di artisti che evidentemente si era convinti che in qualche modo fossero percepite dal pubblico dei sudditi noi abbiamo un'idea spesso molto fissa dell'arte egiziana in parte questo dipende dal fatto che ci sono una serie di richiami e di ritorni a distanza di molti secoli la testa che vedete sulla sinistra è quella forse dell'unico non famoso re faraone della quarta dinastia un certo di Dufri che probabilmente era il figlio di Cheope e sulla destra invece vedete un'immagine di uno dei tutmosidi forse di tutmosi terzo circa un millennio più tardi così avvenne certo che in modi ovviamente diversi all'inizio della dodicesima dinastia nel medio regno e verso la metà della diciottesima dinastia nel nuovo regno in Egitto grandi maestri ripresero tratti della prestigiosa statuaria dei maggiori faraoni dell'antico regno come appunto vedete in queste immagini in maniera infatti potrà stupire non molto diversa da quanto accadde nel rinascimento europeo un'attenzione acuta e nuova all'arte più antica di oltre un millennio fece sì che dagli anni dei primi tutmosidi al tempo di quel magnifico e ambizioso faraone che fu a meno fisterzo quelle sono i famosi colossi di Memnone a Tebbe Ovest un rinnovamento da prima sottile e poi profondo pervadisse l'arte dei signori di Tebbe non è forse un caso che proprio in quegli anni al tempo di a meno fisterzo come Francesco I e Carlo V non esitarono a trattare alla pari Leonardo e Tiziano così a meno fisterzo permise unico faraone nella storia egiziana al suo geniale architetto e scultore Amenhotep figlio di Apu più tardi addirittura divinizzato come un faraone di avere un tempio funerario cosa inaudita suo proprio vicino al suo stesso immenso santuario funerario nella Tebbe occidentale le due immagini che vedete sono due statue di questo altissimo funzionario che era il capo degli architetti di Amenofis III e sicuramente fu l'autore dell'immenso edificio sacro di cui si credeva fino a poco tempo fa che fossero rimaste soltanto le due statue dei cosiddetti colossi di Memnone lì vedete con l'inondazione del Nilo nel luglio mentre una missione fortunatamente attiva ancora in Egitto Egitto Tredisca sta adesso scoprendo cose mirabili di questo tempio che non è come si credeva completamente scomparso nel mondo orientale antico erano dunque i templi i luoghi della memoria come straordinari scrigni delle testimonianze dell'arte del passato da cui ispirazione era tratta più spesso certo di quanto noi moderni arriviamo a supporre per reinterpretazioni rielaborazioni e rinnovamenti dell'espressione figurativa e delle creazioni architettoniche in connessione con gli sviluppi delle ideologie politiche delle credenze religiose e delle strutture sociali ciò sia nei più fragili santuari in mattoni crudi del mondo mesopotamico che erano così ad un tempo dimore eterne degli dei e memoriali caduchi degli uomini perché in essi venivano votate agli dei statue e stele che agli dei dovevano parlare come dicevano letteralmente sumeri babilonese ed assiri per illustrare e certificare le gesta sociali militari edilizie dei sovrani senza eccezione dagli dei richieste ai sovrani sia nei ben più durevoli templi in pietra del mondo egiziano che per questa loro materiale senza imperitura non erano solo uno scrigno di opere ma divenivano rapidamente memoria essi stessi infatti oltre che ospitare come avete visto poco prima nel tempio di Karnak statue stele obelischi dei faraoni perfino le mura stesse le colonne i piloni come state vedendo ora dei santuari della valle del Nilo si coprivano talora quasi totalmente di interminabili rilievi che di norma rappresentavano atti rituali del faraone nelle regioni interne e imprese militari del sovrano sulle pareti esterne dei santuari così sale i postili come vedete a sinistra e corti dei grandi templi di Karnak e di Luxor rievocavano rituali correnti festività religiose celebrazioni offertorie cerimonie giubilari in cui il faraone era in stretto contatto con il mondo complesso degli dei mentre sui piloni e sulle pareti esterne dei muri perimetrali di quegli stessi santuari come vedete sulle due immagini sulla destra e dei templi funerari come esemplarmente nel grande edificio sacro funerario di Ramses III a Medinetabu in basso erano in modi più esposti al pubblico dei sudditi ininterrottamente illustrate le varie fasi delle guerre e dei trionfi che nell'ideologia faraonica altro non erano che la realizzazione dell'ordine giusto ed immutabile stabilito dagli dei dell'Egitto nel mondo degli uomini è certo quindi che nelle grandi civiltà dell'Oriente Antico molto più di quanto noi potessimo immaginare le espressioni artistiche ed artichettoniche del passato furono sempre oggetto di sollecite e cure e spesso di volenterosi restauri perché in essa era la venerata memoria della continuità sostanziale tra mondo divino e mondo umano e della necessaria vicinanza degli uomini degli dei agli uomini nessuna sciagura poteva immaginare un sumero o un babilonese più spaventosa di quella costituita dall'abbandono fisicamente inteso da parte degli dei dei propri santuari cioè delle loro residenze era accaduto infatti intorno al 2150 che la grande dea Ishtar di Akkad aveva dovuto abbandonare il suo veneratissimo tempio nella città di Akkad la capitale del primo impero della storia noi diciamo in ossequio al destino di morte determinato dal supremo dio Enlil di Nippur e dall'assemblea di tutti i grandi dei per le colpe gravi dei sovrani accadici contro gli dei stessi così come il dio lunare Nanna il dio della città di Ur lasciò deserto il suo grande santuario nella sua città alla fine della gloriosa terza dinastia di Ur appunto perché tutti gli dei del paese di Sumer avevano decretato la fine della città di Ur cui in effetti seguirono le devastazioni terribili e la mite di tutta la Babilonia poco prima del 2000 ma proprio perché i templi e le città erano i luoghi della tradizione e della memoria e in una parola erano il simbolo stesso della civiltà e dell'identità di un popolo e di una nazione furono le città e i templi in particolare oltre che ovviamente tutte le altre strutture urbane ad essere spesso l'oggetto di distruzioni terribili in tutto l'Oriente Antico lungo i tre millenni di storia che separano gli albori dei tempi protostorici dall'avvento dell'ellenismo dopo le conquiste di Alessandro delle quattro motivazioni maggiori che sono state indicate come all'origine della distruzione contemporanea dei beni artistici architettonici e materiali del patrimonio culturale ben tre di esse a mio avviso in modi non molto diversi da quelli attuali si constatano presenti fin in una così lontana antichità quali sono queste motivazioni uno l'interesse economico all'origine degli scavi clandestini due l'intento politico dell'umiliazione identitaria all'origine di distruzioni devastanti tre l'odio ideologico all'origine di annientamenti di culture o credenze altre si ritrovano tutte e tre in forme ovviamente non attuali nelle distruzioni antiche delle opere del patrimonio culturale verificatesi nei tre millenni della storia preellenistica dell'Oriente Antico da quando le prime città della storia compaiono nella seconda metà del quarto millennio all'età di Alessandro solo il movente propagandistico dell'attribuzione al nemico della distruzione del bene culturale qualunque sia la realtà dei fatti come oggi avviene soprattutto in Siria appare assente nel mondo antico abbastanza comprensibilmente per la mancanza nel mondo antico sia di una coscienza diffusa del valore del patrimonio culturale sia di una sofisticata manipolazione della comunicazione propagandistica non so se sono abbastanza chiaro nella situazione attuale tragica della Siria per me particolarmente dolorosa vi sarete accorti che le due parti dicono è saltato il minareto della moschea omaglia di Aleppo cosa gravissima è stato fatto saltare chi l'ha fatto saltare? voi chi l'ha fatto saltare? voi cioè ci si rimpalla la responsabilità della distruzione del patrimonio culturale perché questo è un elemento propagandistico fortissimo perché l'opinione pubblica mondiale è sensibile anche a questa barbarie oltre a quella degli atti disumani questo tipo di distruzione naturalmente secondo me almeno non siamo riusciti finora a identificarlo nel mondo antico ma gli altri come adesso vediamo sono ben documentati benché ovviamente sia impossibile una disamina statisticamente efficace analizzando pur solo alcuni casi esemplari di ciascuna delle tre motivazioni appena ricordate si vuole ora provare a indicare quali delle tre motivazioni abbiano avuto più impatto negativamente sull'amplissimo naufragio cui le opere materiali del patrimonio culturale delle civiltà dell'Oriente Antico sono andate incontro già nei tre millenni della loro storia cioè ben prima che intervenissero gli archeologi a recuperarle la prima delle motivazioni definita come l'interesse economico io ho detto poco fa all'origine di accanite ricerche di tesori che può sembrare qualcosa di tipicamente moderno la caccia alle antichità per i collezionisti è invece assai antica e ha procurato danni gravissimi in molte aree dell'Oriente Antico dove già nell'antichità fossero state individuate aree cimiteriali particolarmente ricche le stesse testimonianze archeologiche mostrano che in importanti necropoli come quella di Tebe in Egitto ma anche in un caso ben più ridotto nelle necropoli per esempio reale incomparabili naturalmente di Ebla in Siria le depredazioni avvennero in relazione allo stabilirsi di monaci anacoreti nei cimiteri abbandonati nella tarda età imperiale romana e agli inizi dell'età bizantina ma i saccheggi di aree funerarie di straordinaria importanza sono attestati in maniera documentata in modo impressionante già in periodi molto più antichi per quanto concerne le due necropoli più famose al mondo forse la valle dei re e la valle delle regine nella Tebbia occidentale dove erano le tombe di tutti i faraoni dell'età imperiale egiziana della diciottesima diciannovesima e ventesima dinastia dell'Egitto i protocolli delle indagini giudiziarie che vedete nel papiro in alto sulla destra con l'identificazione e la condanna dei responsabili su saccheggi ad importanti tombe reali sigillate anche non molti decenni prima condotte con forze solo apparente inflessibile rigore da alti funzionali centrali e locali di Tebbe sono tramandate da papiri dell'età degli ultimi ramessidi quello che vedete in alto a destra si può ritenere che già a quel tempo molte delle tombe dei faraoni delle regine e dei principi delle due maggiori dinastie tebbane dell'età dell'impero egiziano d'Asia e di Nubia fossero state individuate violate saccheggiate in maniera sistematica per depredarne i tesori oltre che sulle puntuali documentazioni processuali cui si è fatto cenno questa considerazione è fondata sul fatto che a quegli anni risale l'organizzazione di due celeberri minascondigli che vedete nello stato attuale sulla destra rimasti quasi inviolati fino alla scoperta degli archeologi alla fine dell'Ottocento ricavati nelle parite rocciose di Deirel Bahri adiacente alla stessa valle dei re dove devoti sacerdoti e onesti funzionali celarono un gran numero delle mummie dei maggiori faraoni della diciottesima e della diciannovesima dinastia e di loro familiari prelevate dalle tombe originarie violate dopo averle restaurate applicandovi in non pochi casi sigilli che davano l'identità dei defunti e la data della pia operazione di recupero e di salvataggio almeno dei resti umani di molti dei grandi protagonisti della storia dell'Egitto del Nuovo Regno può darsi che vi siate domandati com'è che noi non conosciamo nulla dei correi quasi nulla diciamo dei correi di funerari dei grandi faraoni del Nuovo Regno ma se uno va al Cairo può visitare una sala impressionante con le mummie dei più grandi faraoni della diciottesima e diciannovesima dinastia perché le mummie furono salvate dopo che le tombe erano state violate e saccheggiate la sensazionale scoperta nel 1922 ad opera di Howard Carter che vedete in basso in una famosissima immagine e di Lord Carnarvon il suo mentore della tomba del faraone giovinito Tutankhamon restauratore dei culti tradizionali tebbani dopo la rivoluzione religiosa di Echnaton nel XIV secolo avanti Cristo che è a tutt'oggi l'unica tomba reale tebbana scoperta sostanzialmente inviolata ha rivelato al mondo stupito degli studiosi e al pubblico di tutto il mondo affascinato dai leggendari tesori del faraone quali in mani perdite abbiano determinato i saccheggi delle tombe reali tebbane già relativamente pochi anni dopo il seppellimento dei faraoni in anni di gravi disordini sociali privi di controllo del territorio da parte delle autorità civili militari e religiose dell'antica tebe nell'ambito della terza motivazione di distruzione che come si è visto fa riferimento ad un odio ideologico che non intende riconoscere una cultura o una fede ritenuta inaccettabilmente altra si possono collocare quelle distruzioni antiche non frequenti o comunque non frequentemente documentate che all'interno della stessa cultura hanno dato adito ad una condanna della memoria di figure politiche ritenute colpevoli di una colpa inespiabile o di una rottura inaccettabile alcuni di questi casi sono ben noti nel mondo egiziano del nuovo regno i due maggiori e con maggiori conseguenze sul piano delle distruzioni cui diedero corso sono quelle sono quelli completamente diversi tra loro da un lato dell'energica e fiera faraone donna a Cepsut di cui vedete l'immagine sulla sinistra nella complessa vicenda della successione dei Tutmosidi in cui la regina ostacolò oltre all'accettabile l'avvento di un grande sovrano come il nipote Tutmosis III e dall'altro dell'enigmatico mistico innovatore religioso improvvido riformatore politico se non l'uno e l'altro Ameno Fisquarto che mutò il suo nome regale in Akhnaton e impose il culto come si dice oggi enoteistico del disco solare Aton abbandonando progressivamente ma risolutamente la fede negli dei tebbani e soprattutto nel grande dio dinastico Amorra la damnazio memoria che stranamente solo in anni avanzati del suo regno glorioso Tutmosis III decretò nei riguardi della zia Hatshepsut non comportò gravi distruzioni ma solo la ripetuta cancellazione del nome dell'orgogliosa e determinata regina in una quantità di suoi monumenti e forse l'abbattimento di alcune sue statue ma fortunatamente non determinò la distruzione di opere architettoniche che il grande architetto della regina Senenmuth di cui vedete l'immagine in alto a destra aveva concepito con straordinaria originalità aveva fatto eseguire con una sensibilità all'ambiente naturale che ha pochi paragoni nell'antichità preclassica delle civiltà mediterranee è così che lo spettacolare armoniosissimo e originalissimo tempio funerario della regina ad Eirel Bahri che vedete in basso a destra è ancora oggi una delle massime meraviglie dell'architettura faraonica di ogni tempo del tutto diverso è il discorso per l'opera di Echnaton che ben altrimenti colpevole per il suo tradimento della religione ufficiale agli occhi del potente clero tebbano potè concludere il suo regno forse convinto di aver condotto positivamente a compimento la sua singolare riforma religiosa che aveva comportato già la distruzione di monumenti templari minori nella capitale dell'impero dove erano i tempi di Ammone il dio detestato da Echnaton e soprattutto l'abbandono della città santa del dio Amorra a vantaggio della nuova fondazione dedicata ad Aton la città di Achetaton che vedete in basso a sinistra costruita nel giro di pochi anni in un luogo inabitato che doveva essere essa stessa con la sua architettura pianificata nel vuoto storico una nuova fondazione completa un inno al nuovo dio benevole e misericordioso radioso e verificante ma in questo caso i danni che si produssero alle opere artistiche e architettoniche progettate nel segno del nuovo dio solare al tempo di Echnaton con il ritorno ideale alla fede tradizionale e fisico alla capitale storica ad opera di Tutankhamon furono rilevanti perché le immagini del re Echnaton furono in parecchi casi distrutte i monumenti tebbani del suo primo periodo abbattuti e dispersi la sua capitale che avete visto poco fa immediatamente abbandonata e condannata a progressiva rovine noi abbiamo moltissime testimonianze tutte frammentarie della grande arte di Echnaton e vedete che sono dei frammenti completamente dispersi che difficilmente si possono ricostruire nel mondo mesopotamico non si registrano casi paragonabili e anche quando un sovrano nella tradizione più tarda venne considerato con caratteri di impietà come il caso Ninaramsin di Akkad che è visto nel XXIII secolo che avrebbe peccato di arroganza sacrilega verso la città santa e il santuario di Nippur cioè in realtà contro il potente clero del dio Enlil non consta che i suoi monumenti siano stati danneggiati o distrutti quando accadde che pur grandi sovrani da Siria quali Tocultini in Urta I autore di quel monumento in alto a sinistra alla fine del XIII secolo e Sargon II nel grande rilievo sulla destra negli ultimi anni dell'VIII secolo ebbero la tragica sorte l'uno di essere assassinato dai suoi stessi figli nel suo palazzo e l'altro di essere ucciso in guerra in un'imboscata da cui non si riuscì neppure a recuperare il corpo del re per degni funerali l'interpretazione universale che i due sovrani si fossero macchiati nei gravissimi peccati contro il mondo divino mise in atto disperate ricerche di tipo divinatorio per avere chiarezza ed evitare di ripetere nel futuro gli indubitabili gravissimi errori difficilmente identificabili dal loro certo compiuti per aver meritato dagli dei così tragico destino ma la memoria dei due grandi re non ebbe conseguenze distruttive sulle opere ad essi dovute comunque accadde nell'uno come nell'altro caso che le due gigantesche nuove fondazioni urbane da ambedue concepite Carto Cultini in Urta e Dursher Rucine le loro nuove capitali vennero precipitosamente abbandonate dai due successori timorosi certo che proprio l'edificazione di una nuova città forse non gradita agli dei potesse essere la causa di quelle morte insolite e tragiche in cui non vera dubbio nella mentalità mesopotamica che si dovesse vedere la spietata ma certo giusta punizione divina per qualche azione sacrilega degna di seria espiazione è naturalmente la seconda delle motivazioni tra le tre che abbiamo ricordato da ultimo quella dell'intento politico dell'umiliazione identitaria di una parte avversa che è stata all'origine delle più frequenti accanite distruzioni antiche che hanno provocato le più rovinose perdite delle opere del patrimonio culturale nell'antico oriente soprattutto nei casi di città di significato politico di primaria importanza la Roma imperiale dove innumerevoli insigne opere d'arte della cultura greca furono accumulate come a noi è difficile anche immaginare dai generali vittoriosi della media e tarda repubblica dalla Magna Grecia dall'Elladi dall'Asia minore ed infine anche dall'Egitto fu l'oggetto in un solo secolo della tarda antichità di tre spaventosi saccheggi che portarono alla distruzione e alla rapina di moltissime di queste opere prima prima il sacco dei goti di Alerico per soli tre infausti giorni nell'agosto del 410 poi quello dei vandali di Genserico durato quattordici terribili giorni nel giugno del 455 e infine quello dei visicoti borgundi e ostrogoti di Ricimero per lunghi giorni nel luglio del 472 molti secoli prima Babilonia città santa d'Oriente centro del mondo nella teologia babilonese che ebbe da affascinare lo stesso Alessandro che ne fece la sua capitale dove morì era stato oggetto tra il sedicesimo e gli inizi del settimo secolo avanti Cristo di ripetute conquiste saccheggi e distruzioni ad opere dittiti cassiti elamiti e soprattutto assiri i cui maggiori sovrani tra il tredicesimo e l'ottavo secolo avanti Cristo più volte vi entrarono trionfanti ma nessun saccheggio eguagliò quello che lo spietato Sennacherib inflisse a Babilonia nel 689 avanti Cristo testualmente Sennacherib dice nella mia seconda campagna avanzai rapidamente contro Babilonia che ero fortemente determinato a conquistare come una tempesta piombai su di essa la sgominai come un uragano senza alcuno scampo investì quella città con gallerie e torri d'assedio le mie mani la presero il saccheggio fu completo dei suoi potenti piccoli o grandi nessuno risparmiai con i loro corpi riempì le piazze Shuzubu re di Babilonia insieme con la sua famiglia e i suoi nobili portai via il mio potere le ricchezze di quella città argento oro pietre preziose proprietà e beni lasciai senza numero nelle mani del mio popolo ed essi se ne impossessarono un saccheggio lasciato ai soldati gli dèi che abitavano in quella città le mani del mio popolo li afferrarono e li ridussero in frantiumi anche gli dèi le loro proprietà e i loro beni essi presero la città le sue case dalle fondazioni e i fastigi distrussi devastai diedi alle fiamme la cinta muraria interna ed esterna i templi degli dèi le torri templari di mattoni di terra quanti venerano io rasi al suolo e gettai nel fiume Arachtu che è un ramo delle Eufrate nel mezzo della città aprì i canali allagai il suo suolo con torrenti come un diluvio fin le strutture delle fondazioni annientai feci che la sua distruzione fosse più completa di quella di un alluvione che nei giorni a venire del luogo stesso della città dei suoi templi e dei suoi dèi possa essere perduta la memoria sommersi la città con l'acqua di un uragano e la resi come una palude chiusa la citazione poco più di mezzo secolo più tardi il mondo rimase attonito alla notizia incredibile che l'invincibile potenza siria stava crollando anch'essa e le capitali di un imperio inattaccabile da Assura a Ninive stessa venivano espugnate nel giro di soli due anni è paradossale che mentre Sennacarib celebrò con iperboliche espressioni come abbiamo sentito la sua volontà di radicale annientamento di Babilonia dalle cancellerie babilonesi il trionfo di Nabopolas re di Babilonia alleato sia Ciasse re dei medi sull'odiata Ninive viene ricordato in una celebre cronaca con un singolare quasi freddo distacco dice la cronaca testualmente il quattordicesimo anno il re del paese di Babilonia raccolse le sue truppe e marciò contro la Siria il re dei medi si recò alla presenza del re di Babilonia e il re di Babilonia e Ciasse si incontrarono il re di Babilonia e il suo esercito attraversarono il Tigri Ciasse fece attraversare il Radano uno degli affluenti di sinistra e si mosse lungo il Tigri nel mese di Siguann si accamparono di fronte a Ninive dal mese di Siguann al mese di Ab agosto per la durata di tre mesi posero l'assedio alla città e l'attaccarono impetuosamente nel mese di Ab inflissero una devastante disfatta ad un grande popolo gli assiri allora morì Sincharishkun re d'assiria presero un imponente bottino nella città e nel tempio e ridussero la città un cumulo di rovine chiusa la citazione pochi anni prima l'ultimo grande re d'assiria Assurbanipal alla metà del sesto secolo del settimo secolo scusate in una campagna memorabile aveva annientato quello che sul versante orientale non pensando ai medi appariva il più temibile nemico un manaldas re dell'Elam radendo al suolo ben quattordici sue città regali da Madactu a Susa a Duruntas mattendo a ferro e fuoco lo dicono i suoi testi naturalmente decine di centri urbani devastando i templi dei torri templari del grande dio dell'Elam Shushinak e di tutte le divinità della sua corte abbattendo le gigantesche statue degli dei tutelari dei templi e dei palazzi violando tutte le tombe reali dice esplicitamente Assurbanipal e disperdendo al vento i resti degli antichi principi dell'Elam riportando in trionfo a Ninive testualmente 32 statue di sovrani antichi e 4 degli ultimi re fatte d'oro d'argento di bronzo e di marmo questo elenco impressionante di una quasi maniacale pedanteria delle distruzioni apportate all'Elam mortale nemico e dei bottini tratti dall'annientamento di quella fiorente regione non è certo paragonabile in nessun modo alle distruzioni inferte da Nabopola a Sarecciassare nelle ricchissime capitali da Siria tra il 614 e il 612 e all'immenso bottino che certo risultò dal sacco di Ninive in conclusione le distruzioni di Babilonia prima e di Ninive poi nel 689 e nel 612 avanti Cristo determinarono certo in modi simili anche se in misure certo diverse dai sacchi di Roma del 410 del 455 e del 472 la scomparsa e la perdita di opere innumerevoli del patrimonio culturale accumulata in quelle residenze imperiali nei secoli nella concezione teleologica della storia tipica del monoteismo etico dei profeti di Israele un eco impressionante della percezione di quegli eventi drammatici recepita nelle menti più illuminate di chi non apparteneva ai circoli dominanti delle corti di quei signori del mondo ed anzi aveva assistito attonito dal presente ma fiducioso nel futuro alle distruzioni dovunque apportate dalla Siria e rimasta nella celebre invettiva di Isaia il grande profeta testualmente ha a Siria verga del mio furore bastone del mio sdegno contro una nazione impia il popolo di Israele cioè il suo stesso popolo io la scaglio scaglio la Siria e la faccio abbattere contro un popolo con cui sono in collera il suo proprio popolo perché lo saccheggi lo depredi e lo calpesti come fango di strada essa però la Siria non pensa così cioè non sa di essere un mio strumento e così non giudica il suo cuore ma vuole distruggere e annientare ogni nazione e anzi la Siria grida forse i miei capi non sono altrettanti re forse come Carcamish non è forse Calno come Arpad non è forse Hama come Damasco non è forse Samaria come la mia mano ha raggiunto quei regni degli idoli le cui statue erano più o meno numerose di quelle di Gerusalemme di Samaria non posso io forse il re d'Assiria come ho fatto a Samaria e ai suoi idoli fare anche a Gerusalemme e ai suoi simulacri chiusa la citazione in quella stessa visione del mondo che vedeva il destino di morte di fiorenti centri urbani di Siria e di Palestina come Carcamish Calno Arpad Hama così come Damasco Samaria e solo poco più tardi la stessa Gerusalemme determinato nella volontà divina dall'inappellabile decisione celeste di punire i mortali colpevoli di innumerevoli peccati contro il Dio unico di Israele anche il tracotante orgoglio l'ineguagliabile ricchezza e il potere smisurato di Ninive e di Babilonia erano meritevoli non solo di una fine senza appello ma addirittura con lo sfregio delle loro immagini regali e la riduzione allo stato selvaggio delle loro rovine dell'oblio stesso della memoria a parte naturalmente l'immagine michelangelesca di Isaia che riconoscete sulla sinistra vedete sulla destra un re da Siria che è Sennacherib alla presa di Lachish al British Museum e vi accorgerete che il volto è martellato cioè sfregiato da chi nel 612 conquistò questa città cioè Napopolasar di Babilonia e Ciassele dei Medi e vedete i greggi come appare oggi sulle rovine di Untel del vicino Oriente ancora e finiamo nelle visionarie parole di Isaia il testo suona così Babilonia perla dei regni splendore orgoglioso dei caldei sarà come Sodoma e Gomorra sconvolte da Dio non sarà abitata mai più né popolata di generazione in generazione l'arabo non vi pianterà la sua tenda nei pastori vi faranno sostare le greggi come voi state vedendo ma vi si stabiliranno gli animali del deserto i gufi riempiranno le sue case vi faranno dimora gli struzzi vi danzeranno i satiri ululeranno le iene nei suoi palazzi gli sciacalli nelle sue lussuose residenze la sua ora di Babilonia si avvicina i suoi giorni non saranno prolungati grazie 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 grazie